Musica Parleremo di start up, venture capital, formazione 4.0 per analizzare ovviamente il contesto italiano, difficoltà, problemi e dove occorrerebbe intervenire. Lo facciamo con Fausta Pavesio, Mauro Cervini, Adriana Versino e Ivano De Turi. Io vorrei subito coinvolgere, cerchiamo di fare magari un paio di giri di opinione, magari anche qualche domanda che immagino ci possa essere da parte vostra. Fausta iniziamo da te per farci un po' quello, tracciare il quadro del contesto in Italia delle start up del venture capital, sappiamo che la situazione è una situazione di difficoltà in Italia da questo punto di vista, i dati a IFI lo certificano ma non solo, penso che molte delle persone che hanno una start up possano confermarlo, quindi vorrei che tu ci inquadrassi un po' queste difficoltà ovviamente dall'alto della tua esperienza in materia. Grazie. Allora, buonasera a tutti, si sente? Sì, perché? Ok. Allora, io mi occupo di queste cose più o meno da 7-8 anni, quindi diciamo che un po' ne ho viste, tra l'altro ho anche un'esperienza nella consulenza e comunque di vita internazionale, quindi ho tuttora delle figlie che vivono all'estero, hanno vissuto in Inghilterra, nei Nordics, in Olanda, eccetera, eccetera. Quindi ho anche abbastanza, voglio dire, il termometro di quello che sta succedendo in Italia rispetto a quello che succede nel resto del paese. Allora, io vorrei dire tendenzialmente tre cose. Allora, per quanto riguarda una delle cose che si dice sempre è che in Italia non ci sono i soldi, non ci sono i venture capital, è difficile finanziare un'azienda, se uno vuole fare successo deve andare all'estero e cose del genere. Allora, che non ci sono i soldi non è assolutamente vero, nel senso che di liquidità è pieno, e il problema, e che credo che sia uno dei problemi che dovrà anche affrontare il governo, e non credo che quello che hanno in mente loro adesso, cioè l'approccio col fondo dei fondi, eccetera, possa essere... Ora magari ci arriviamo anche tra un pochino a commentarlo. Esatto, l'unica soluzione, comunque non è vero che non ci sono soldi, i soldi ci sono, il problema è come farli arrivare alle start-up, cioè manca un pezzettino. Parlando del tema formazione, che poi è il tema di cui appunto tendenzialmente dovremmo occuparci in primis... Arriviamo nella seconda, se sei d'accordo. No, ma volevo fare solo un ceno, perché volevo lanciare una provocazione che secondo me parte anche da tutto... è importante per tutto il resto. Cioè, secondo me, prima di formazione, e questo serve anche per il problema che dicevo prima, bisogna parlare di cultura, perché in Italia manca la cultura, manca la awareness su queste cose. Io leggevo adesso, appunto, perché combinazione ho ricevuto un whatsapp, un memento di Margaret Hamilton, non so se voi ve la ricordate, Margaret Hamilton, adesso più o meno una signora della mia età, che nel 1969 all'MIT fu la capa del team di ingegneri che sviluppò il software, che aiutò a portare l'uomo sulla luna, come idea, no? Ventenne, donna. Quello che succede... Quello che dice lei, è bellissimo perché è girato un po', se l'andate a cercare, anche sul social lo trovate, è girato un po' tempo fa questa fotografia di lei, che era una signora di altezza normale, con una pila più alta di lei, di tabulati di quelli che era il software che loro avevano scritto, eccetera, eccetera. Quello che lei diceva, noi siamo riusciti a fare questa cosa, a farla anche molto bene, ed è stata una cosa vincente, perché il software era una black box. Il board, il management, non capiva di cosa stessimo parlato, e ci ha dato completamente fiducia, facendo challenge, questo tipo di cose, no? Ma quello che sto dicendo è, diamo fiducia ai giovani e alle donne, e cerchiamo di cambiare la cultura di riferimento, che fa sì che la donna, magari non a Milano o a Roma, ma qui in Basilicata sì, mai sarebbe pensata come il capo di un team di sviluppo di ingegneri del software. Mi taccio. Grazie, abbiamo iniziato a trattare il tema, e forse a questo punto è interessante sentire l'opinione di Mauro Cervini, che è esperto soprattutto nel lato finance, no? Mauro, quindi da questo punto di vista, che strumenti la finanza può mettere a disposizione delle start-up per far sì che poi, insomma, riescano a dispiegare tutta la loro energia, la loro forza, e perché partiamo così male in Italia? Come lo sviluppiamo questo venture capital? Allora, il tema è delicato perché è un problema di modello in Italia. chiaramente noi possiamo trarre spunto dalle altre parti del mondo, Stati Uniti in primis, però poi alla fine dobbiamo sul nostro paese avere un modello che tiene conto di come siamo noi. Detto questo, io per entrare proprio nel vivo, ho qua davanti quello che il governo vorrebbe fare in tema di start-up. Mi sono proprio ritagliato l'articolino del 24 ore. Giustamente, Fausta diceva, il fondo dei fondi crea un pochettino di dubbi. È chiaro che noi dobbiamo ragionare come ragiona un investitore. Un investitore che impiega il proprio denaro deve avere degli utili. Quando si accomunano le start-up early alle start-up che devono andare in IPO, in un'unica piattaforma stiamo commettendo un errore enorme. È un fatto di cultura gaming? Esatto. È un unico calderone che ovviamente guarda situazioni completamente diverse tra di loro. Anche perché si parla di fondi PIR che dovrebbero destinare... Allora, i fondi PIR sono i soldi dei risparmiatori. I soldi dei risparmiatori devono essere remunerati. Oggi sappiamo che sulla parte early si perde con questo modello nostro. Si parla di investitori istituzionali. Anche qui il ragionamento vale nella stessa identica maniera. Sono accantonamenti pensionistici. Altra cosa è una start-up che già ha maturato un fatturato e è nelle varie fasi che poi portano all'IPO e quella è già una scommessa che può avere un senso percentuale nel portafoglio. Ora, nella prima parte come si interviene? Io lancio un sasso al di là dei business angels e dei modi che ci sono oggi per finanziare le start-up, le agevolazioni di Stato. Penso che l'unica soluzione sia un fondo governativo equiparabile a ricerca e sviluppo. Non un fondo misto pubblico privato ma solo governativo. solo governativo che serve per un certo periodo a far avviare l'ecosistema di quel... Vedo che Fausto Pavesio non è d'accordo ma ci torniamo ora. Poi ho sentito anche gli altri. Forse Adriana Versino continuerei su questa proposta che ha lanciato Mauro Cervini. Cervini, tu conosci bene ovviamente il tema di cui stiamo trattando. Che ne pensi? Un fondo solo pubblico? Allora, noi siamo un fondo di venture capital che però investe in aziende che abbiano anche un impatto sociale e quindi stiamo andando veramente sul fine. Un micro segmento, sono partner di Oltre Venture. Sono d'accordo innanzitutto con Fausto, la liquidità c'è, poi assolutamente sì. Non sono d'accordo su un fondo governativo. Le donne non sono d'accordo? No. Perché no? No, allora, visto che se ripartiamo con le dichiarazioni del governo, loro rimandano poi al modello francese. Quello che poi il modello francese ha fatto non è soltanto metterci dei soldi, ma prima di tutto creare l'ecosistema, certificare, cioè c'è stato, quindi poi anche un'immissione di soldi pubblici che sono andati a garanzia, ma non è quello. Hanno creato cultura, hanno attratto giovani. Se uno vede le serve della French Tech, sono delle cose estremamente interessanti, come sono riusciti a creare, ma non è un qualcosa che arriva dall'alto. Anzi, se volete vi getto un ulteriore sassolino. Non mancano tanto i soldi. Poi, ripeto, io faccio parte di una realtà dove noi dobbiamo anche cercare delle imprese che generino un impatto sociale rimanendo sostenibili. Quindi non sono aziende no profit, sono aziende for profit che hanno una doppia linea. Esatto, quindi se volete abbiamo quasi più difficoltà a trovare il di flow, quindi è diverso. Ma perché? Perché sono molto piccole, molto early stage, quindi di nuovo lo strumento del venture capital non è corretto sull'early stage. Questo è, quindi fortunatamente in Italia la pletora degli angel è enorme, è abbastanza corposa e sostengono molto bene. Noi stessi spesso indichiamo ad alcune startup che ci sembrano interessanti di fare un round tra angel, quindi perché no? Ma, devo dire, mancano un po' idee interessanti, ambizione, anche cultura tra i ragazzi nel tentare di fare un qualcosa che non sia la copia di una app che hanno visto negli Stati Uniti e magari neanche si sono informati che non è stata di successo. Ecco, continuerei con Ivano De Turi della Lumia Monnet di Bari perché abbiamo parlato appunto dei ragazzi che ci provano, mi sembra di capire, talvolta bisognerebbe forse, secondo la visione di Adriana, anche avere idee forse più originali, però dal tuo punto di vista, insomma, di persona dell'Accademia, che tipo di energia vedi che viene profusa in questo senso e però come non dobbiamo mandarla sprecata perché poi abbiamo detto e questo luogo lo dimostra, c'è tanta energia, c'è tanto anche ottimismo voglia di fare ed è credo necessario che il Paese, insomma, si doti di uno strumento finanziario, normativo che poi sostenga queste imprese. Allora, io sono Ivano De Turi, come diceva Andrea, da Scuola di Management Lumia Monnet. Noi come università, io faccio un po' un'analisi di contesto perché è quello che vediamo dai ragazzi che con queste iniziative che alla fine non è un fondo statale a favore delle start-up, però tanti investimenti del Ministro della Cultura per creare questi ragazzi delle scuole superiori che vengono a noi a fare dei corsi su start-up per diffondere un po' la cultura d'impresa. C'è tanto. Il problema è che anche dall'altro lato il messaggio che passa può essere un'alternativa al lavoro inteso come il posto fisso in cui magari fino a qualche anno fa si ambiva. Adesso l'ambizione è diventata essere uno start-up. Il problema è che lo si fa anche male perché l'analisi di quelli che sono i bisogni, i bisogni, gli anelli mancanti. Noi quando arrivano a un master di Innovation Management gli insegniamo a fare un business plan ma parlandone prima mi è stato detto io del business plan non vedo neanche che cosa, non mi interessa perché mi interessa molto più il team. Io sono pienamente d'accordo perché alla fine una cosa su cui lavoriamo molto è creare un team che abbia delle competenze interdisciplinari, che possa creare valore analizzando un po' quelli che sono i mancanti e creando quello che magari manca. Non è necessario fare qualcosa necessariamente nuovo ma basta anche migliorare la cosa che già esiste perché alla fine innovazione altro non è che il miglioramento di qualcosa che già esiste. Oggi l'innovazione aperta è parliamo di un qualcosa che è stato inventato da qualcun altro e valorizzato da altri. Un fondo governativo? Perché no? Io non mi pronuncio perché da arbitro rimango fuori. Perché l'alto rischio che si può avere in investire in una start up early stage può essere coperto chiaramente non parlo di un fondo di una grande mole di migliaia di euro ma anche un piccolo sostegno che permetta perlomeno di fare non dico il primo miglio ma la prima decina di metri perché noi parliamo di primo miglio quando parliamo delle start up io vorrei parlare di qualche metro che deve essere sostenuto comunque da un intervento governativo perché io sono a favore. Grazie Ivano. Io tornerei a Fausta perché voleva intervenire su questo e secondo me è interessante. Perché un fondo governativo per le start up di nuova generazione a po' giusto non va bene? Rispondo a due o tre cose. Poi ovviamente ciascuno ha le sue opinioni e anzi il mondo evolve per la condivisione delle idee differenti. A parte il fatto che un fondo governativo non è che non sia risparmio degli italiani perché sono comunque soldi nostri quindi voglio dire non è che fai un fondo governativo e puoi perdere perché tutto sommato sono soldi nostri. Io dico non un fondo governativo solo, cioè ci sono delle esperienze bellissime fatte anche a livello regionale da fondi più piccoli che hanno lavorato a livello regionale con gli angel, magari matchando l'investimento fatto dagli angel, raddoppiandolo. Io ho esempi di round a cui ho partecipato io dove magari c'erano 400.000 euro di investimenti fatti di 20 angel da 20 mediamente ovviamente, che veniva raddoppiato da un fondo governativo. Spostando molto sul aiuto da parte dell'angel sia dal punto di vista della due diligence perché poi alla fine l'angel appunto io dico e qui rispondo un po' anche dico il business plan non me ne frega niente all'inizio, poi dopo mi frega però all'inizio cioè io quello che dico sempre quando vengono a propormi delle cose a parte che adesso sto vedendo cose un po' più avanti ma per me è fondamentale game changing idea first, secondo che sia scalabile, terzo che abbia un brevetto, una piattaforma di riferimento, cioè una privativa, qualche cosa che fa sì che non sia aggredibile facilmente, cioè che abbia almeno sei mesi di vantaggio sui competitor il che vuol dire dico sempre io team team team, poi dopo viene il business plan no? però è inutile che noi perdiamo mesi, cioè io vedo delle start up perdere mesi per fare un round da 100.000 euro e nel frattempo si dimenticano di portare avanti il loro business. Allora modelli più anglosassoni sull'early stage tipo i convertible notes o comunque investimenti fatti, non dico la stretta di mano ma poco più, cioè ti presto tot della valutazione parliamo perché poi voglio dire la lite è sempre sulla valutazione, quindi della valutazione ne parliamo tra un anno quando avrai fatto dei passi di un certo tipo e hai dei numeri di un certo tipo non parliamo né di business plan di valutazione, no? E ti dico, ne parliamo, cioè appunto ti do questo, mi fai uno sconto su quella che sarà la valutazione e abbiamo un time frame di riferimento, no? Cioè ne riparliamo tra 12 mesi e 18 mesi, non tra 10 anni ovviamente, no? E questo è per l'early. Quando vai un pochino più in là il discorso del fondo governativo sì, ma non solo, cioè io personalmente ho paura del pubblico da solo, lasciamo, fatemi dire, no? Ripeto, sempre poi partendo dal punto di vista che comunque sono comunque soldi nostri, no? Quindi anche sul discorso dei peer io sono meno, voglio dire, titubante, no? Nel senso che se poi un 2% dei peer fosse investito magari in fondi o gruppi di angel o cose del genere che investono, perché no? Cioè ormai, ed again è un problema di cultura, ma ormai è un asset class che viene richiesta abbastanza proprio per diversificazione, no? Ovviamente da persone che hanno una, again, un'abitudine a queste cose un pochino più avanti. Quindi torniamo al fatto della cultura, cioè è inutile che parliamo, poi come al solito dico sempre io, noi ci parliamo addosso, no? Chi è più o meno in questo settore? Ma chi sta affrontando queste cose per la prima volta ovviamente si trova un po' fuori perché manca la cultura di riferimento. Allora poi abbiamo la start-up per donna che dice per cominciare, ho detto a mio padre quando mi daresti per sposarmi? 30.000 euro, benissimo, io non mi sposo, faccio la start-up, che non è proprio, cioè ecco. Non so se su questi aspetti, ora gli diamo la parola, continuiamo con il nostro dibattito, se qualcuno già ha qualche domanda magari ti do il microfono così puoi mai ripresentarti, ok. Ciao a tutti, Maurizio Maraglino, Lumi Jean Monnet, sono anche un commercialista. Niente, io volevo dire due cose importanti. Innanzitutto una cosa fondamentale che diceva Fausta per quanto riguarda la cultura che poi è un problema fondamentale soprattutto per noi che viviamo la cultura del sud imprenditoriale. Di fatto personalmente ritengo che un fondo, il più grande errore che potrebbe esserci è quello di fare un fondo governativo. Per due motivi principali. Uno perché abbiamo già in passato avuto casi emblematici di flop anche a livello Italia, di fondi che comunque non hanno elevato il vero valore, non solo a livello imprenditoriale ma soprattutto poi in ambito a foco start-up. Ma c'è un dato di fatto, il fondo misto, quindi privato e pubblico, permetterebbe sicuramente di dare un maggior controllo e soprattutto dare una vera decisione all'ammontare degli investimenti. Secondo punto secondo me emblematico, che poi quello che io lancio così una sorta di fucile, mi piacerebbe cogliere l'attenzione anche del governo perché come diceva anche prima Fausta, il problema non è la liquidità. Noi qui abbiamo un problema fondamentale che è il nanismo delle nostre start-up e la qualità delle nostre start-up. Quindi perché il governo non pensa ad investire magari liquidità in percorsi di accelerazione. Cioè noi non abbiamo ancora o probabilmente abbiamo degli acceleratori e degli incubatori dislocati che non riescono però a trasferire magari la giusta cultura imprenditoriale a tutte le start-up. Quindi il mio monito è quello, cioè una liquidità che serva più a investimenti di seed. Cioè la start-up deve crescere nella cultura prima e poi andrà a prendere gli investimenti. Grazie. Grazie, grazie. Ora, no magari, continuiamo. Non so se c'è qualche altra domanda sempre su questo aspetto. Domande, magari riflessioni rapide così andiamo, continuiamo. Salve, sono Vito Pinto di Sviluppo Basilicata. Noi abbiamo gestito in questa società un fondo di venture capital qui in Basilicata. e volevo fare delle riflessioni in merito alla proposito del fondo governativo. Innanzitutto vedo un po' di problemi anche di carattere normativo perché un fondo solamente pubblico, salvo che non mi sbagli ma è difficile, non può essere fatto date le normative comunitarie perché è previsto per forza la presenza di un investitore privato che la cui percentuale varia in base alla fase di vita della società, se il expansion o altro. Quindi chiaramente la presenza del privato è necessaria da punto di vista normativo. Ma anche io condivido quello diceva, non mi ricordo il nome, Maurizio prima, che in effetti la presenza del privato è fondamentale. A parte che anche le norme prevedono che anche debbano essere finanziate sulle attività in cui vi sia effettivamente una forte potenzialità di redditività. e questo è garantito spesso dalla presenza del privato perché il pubblico potrebbe anche investire perché non ci perde nulla chiaramente e quindi anche le iniziative che potenzialmente potrebbero non essere editizie ma per altri motivi. Quindi è importante per due aspetti la presenza del privato. Chiaramente voglio anche sottolineare dalla mia esperienza che la gestione da parte di un pubblico di strumenti finanziari quali venture capital è molto difficile perché spesso occorre applicare quelle che sono le formalità tipiche della pubblica amministrazione a degli strumenti che devono essere al massimo flessibili. Quindi è molto complicato e quindi la possibilità di fare piccoli anche fondi regionali che poi aiutano perché la conoscenza diretta degli imprenditori a crescere e poi meciare con altri fondi più importanti potrebbe essere una buona soluzione. Grazie, grazie molte. Insomma la tua proposta vi sembra che abbia fatto un altro intervento discutere, prendiamo l'ultimo così prendiamo la seconda parte sulla formazione 4.0 rapidamente anche, grazie. Faccio velocissimo. È una proposta che in realtà esiste, seed money in Trentino si è concluso, 30 start up verranno incentivate con 70 mila euro a fondo perduto a fronte di spese realmente sostenute e una volta finiti questi mesi per la rendicontazione se loro trovassero 50 mila euro da parte di un privato la provincia autonoma di Trento raddoppia immediatamente. Ciò nonostante esempi già fatti in passato con TechPix, 101 start up, il programma che abbiamo preso un po' dal Cile, ciò nonostante non ci sono tanti privati che investono e quindi la provincia nonostante avesse la liquidità nonostante fosse pronta a raddoppiare il capitale non lo ha fatto. Quindi torniamo di nuovo alla cultura delle start up, alla cultura d'impresa, alla cultura che se vai a chiedere a un privato 100 mila euro gli devi dare una motivazione e non può essere perché la provincia raddoppia, perché il privato mi dice frega niente perché i miei 100 mila se vanno persi vanno persi. Quindi torniamo di nuovo alla cultura e al fatto che nonostante ci sia la liquidità, nonostante ci siano degli strumenti interessantissimi per le start up, gli manca il motivo ad andare da un privato e dirgli io ti faccio raddoppiare il capitale, te lo faccio aumentare del 20% in un anno, quello che vuoi. Quindi è su quella parte che noi stiamo lavorando tanto, non solo sulla parte di dare. Integro una riflessione se volete meridionalissima. In verità ho la percezione che la cultura dovrebbe essere favorita in rispetto alla percezione che la gente ha sui soldi pubblici e come se il soldo pubblico abbia un valore inferiore rispetto a quello privato. Allora, fino a quando noi opereremo questo tipo di processo mentale, quello che noi ci diciamo è effettivamente vero, cioè un fondo governativo è un fondo assolutamente infattibile. In realtà la cultura bisognerebbe farla sulla cosa pubblica. Grazie. Toma, tante reazioni, mi sembra che il tema abbia creato un bel dibattito. Devo dire correttissimo quello che ha detto Vito, condivido chiaramente queste riflessioni, ma io faccio un passo indietro per qualificare cosa volevo dire. I soldi ci sono, ma nel 2017, early stage, 133 milioni, tutta Italia. Ora, 133 milioni se li andiamo a paragonare con gli altri paesi sono nulla. Allora, voglio dire, ci sono i soldi, ma io qua nei dati ufficiali non li vedo. Io sto parlando di quello che vedo come dato di investimento, poi come dato di investimento, dato ufficiale, vedo 133 milioni, poi ci saranno anche tantissimi soldi, però non vedo una traduzione reale su questo. Exit, non ne vedo molto in giro, vedo un pochettino di problemi sull'exit nel paese. Allora, la mia riflessione, chiaramente con quei paletti, ma ci sono degli escamotage, ma la mia riflessione era sulla parte early, non è che escludo il privato. Sono d'accordissimo sulla filosofia, sul modello che bisogna migliorare. Non è che escludo il privato in quella fase. L'avviamento per incominciare a entrare su questo sistema early, secondo me potrebbe essere opportuno utilizzare come volano anche una fetta di soldi statali. I PIR sono soldi dei cittadini, è in maniera indiretta, è uguale. Le pensioni dei cittadini. Allora, io coinvolgerei direttamente con delle regole, con un specifico quadro legislativo, solo su questa fase, il privato che dà il volano, con il pubblico che dà il volano, col privato che si può aggregare. Questa era la mia riflessione. Grazie Mauro. Proseguiamo un attimo ancora su questo aspetto, perché volevo riportarvi a quello che diceva nel primo intervento, non mi ricordo come, Maurizio, perché diceva nanismo, tasso di sopravvivenza. E poi forse sono i temi che tutte le ricerche e tutti gli esperti conoscono. Su questo tema, Adriana, la tua. Assolutamente, infatti era quello che dicevo una parte iniziale anch'io. E tra l'altro, vi getto un altro tema, quest'anno sono circolati parecchi articoli, Harvard, MIT e quant'altro, per cui van bene i giovani. Noi siamo i primi, c'è un bias nel guardare un'azienda comunque dove c'è il giovane e quant'altro, ma le ricerche mostrano che le start-up di successo sono dai 45 anni in su, ma perché? E qua torniamo allora alla formazione e alla cultura. Un giovane di 22 anni può, 26, 30, quello che volete, può anche avere l'idea buona e innovativa perché è fresco, perché non è legato a elementi del passato, ma gli manca l'esperienza, gli manca quindi perché hanno più successo aziende fondate con start-up per di 45 anni, perché sono stati sul mercato, perché mancano questi ragazzi del fare, quello diceva anche tu, l'analisi dei bisogni, dove che io sto andando a innovare e quindi da lì il tema del rimangono piccole, nane, non riesco a fare exit, cioè è tutto lì. Io involgo ancora Ivano perché mi piaceva anche l'ultima considerazione che è stata fatta, cioè il valore poi forse è un po' una considerazione di sistema, di contesto, ma secondo me in questa conversazione è molto utile poi un attimo sottolineare, cioè il valore del denaro pubblico e il valore del denaro privato, cioè dal tuo punto di vista ovviamente anche con una proiezione, una visione sui giovani. Io appoggiavo l'idea del fondo ma non nel senso stretto del termine perché poi no 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 no. Ho notato anch'io che sono un po' tornati indietro. No ma attenzione, no perché effettivamente nell'early stage io credo che sia necessario e alla fine su questo siamo estremamente d'accordo, di un percorso di mentoring, di accelerazione che può essere di natura governativa, nel senso io non intendevo un investimento, io parlavo proprio di un voucher a disposizione di persone che magari queste competenze non ce le hanno, nel senso che ok si inizia dalla formazione, ok. Vedo reazioni un po'. Ma va bene, va bene, va bene. No no, creiamo di parte. Sì sì sì, quello che volevo dire, dal punto di vista della formazione si porta ad avere una cultura dell'imprenditorialità, l'idea di fare impresa e capire cosa comporta, come si crea valore non nel senso più sociale del termine ma proprio in termini di ritorno per l'investitore. Ma questo ha, soprattutto per l'early stage, necessita di un percorso che porti ad avere consapevolezza di che cosa si vuole creare, quali sono i bisogni che si vogliono soddisfare, come questo può creare valore anche in termini di chi potrebbe entrare in un secondo momento. In quella fase, proprio nel primo miglio manca qualcosa che potrebbe essere, diciamo, sostenuto dall'intervento governativo. Una risposta da Adriana, telegrafica. Ripeto, sì. Acceleratori, incubatori, in Italia ce n'è una marea e non avete idea di quante volte le start-up ci dicono ho già fatto il percorso, non mi sta dando nulla. Quindi il tema è chi è, chi è che insegna chi. Cioè, se fosse Fausta, come dire io, sottoscrivo perché Fausta ha un suo valore, porta valore sul mercato. Bisogna veramente aiutarli in una maniera diversa, questi ragazzi a crescere. Perché per loro è l'ennesima cosa per prendersi tra l'altro due lire in croce, dove spesso tra l'altro questi incubatori in realtà guadagnano sull'affitto di quello che poi... e quindi le start-up non sono selezionate sulla base del merito dell'idea, purtroppo, ma sulla capacità di ripagare l'affitto, perché a sua volta l'incubatore è un imprenditore, quindi deve anche lui ripagarsi l'affitto. Quindi si crea un circolo vizioso, purtroppo, e non virtuoso, in cui l'acceleratore serve un po' a poco. Torno indietro un attimo, un anno fa mi sono ritrovato un tavolo di Regione Lombardia, a proposito di... dove un venture capital, eravamo abbastanza contenti, c'erano un po' di fondi regionali, diceva cosa facciamo? Vorremmo fare qualcosa tipo Lazio Innova, antenerizzata, interessante. E ovviamente non abbiamo ancora più saputo nulla, quindi sarà passato quasi un anno, ma la cosa che se vuoi noi fondi a un certo punto abbiamo provato a chiedere, era quasi un piccolo fondo di garanzia che andasse a coprire il primo 20% delle perdite del totale del fondo. Ok, così mi sta riducendo il rischio, non sto mettendo troppo a repentaglio risorse pubbliche. Facciamo un passo verso l'argomento poi che conclude questo panel, magari se ci sono poi altre domande le facciamo tra una decina di minuti. Di coinvolgo Ivano Deturi perché abbiamo parlato e secondo me Adriana Versino ha fotografato molto bene quelle che sono poi le difficoltà dei giovani che mettono in piedi una start-up. Voi vi occupate di formazione con un master specifico anche su queste tematiche, quindi un po' se ce lo racconti e poi la tua anche su quello che Adriana ci ha detto su i giovani e le start-up e perché poi magari quelle dei quarantenni vanno meglio. Io mi volevo esattamente a questo perché l'esatto anello di congiuntura rispetto a quello che dicevamo prima è quello che la school ha voluto sponsorizzare questo evento anche per chiacchierare in merito a questa nuova iniziativa, questo master executive che si occupa di start-up management, entrepreneurship e venture capital perché vuole dare una formazione a imprenditori, potenziali venture capital, quindi attraverso un percorso di formazione con mentor del settore. Quindi tu dicevi prima se fosse Fausta potrei essere d'accordo. Bene, 200 ore di didattica fatte dagli operatori del settore che possano formare sia potenziali start-up ma persone che potrebbero capire anche chi investe e cosa cerca. Perché a questo punto quello che abbiamo detto prima, io il business plan neanche lo leggo, ok? Glielo dice Fausta delle persone che devono iniziare quel percorso, perché a oggi purtroppo la cultura a creare una start-up attraverso generazioni pubbliche, diciamo che tutte quelle che sono le amministrazioni partono e arrivano con degli strumenti che sono stati fatti dieci anni fa e oggi se si va a fare un bando pubblico per prendere un finanziamento devi presentare un canvas che dal 2010, quindi arriviamo sempre con otto, nove anni di ritardo, un ragazzo viene da noi e dice come si fa un canvas quando noi siamo otto anni fa, adesso quando sono arrivati altri dieci di strumenti che vengono richiesti da questa comunità, quindi il processo è avere 200 ore di didattica con gli operatori del settore, poi due settimane all'interno di un incubatore acceleratore a Londra che è nello spazio di, non ricordo il nome, della Holden House, quindi due settimane in cui vivono sul campo quello effettivamente un percorso di incubazione e accelerazione. Questa è una proposta, questo è il master che parte quest'anno per dare qualcosa in più rispetto a quello che si faceva prima, ovvero noi prima avevamo una formazione per arrivare da un'idea, un business plan e presentarsi, mancava tutto il pezzo dopo, quindi tutto ciò che portava al... Un consiglio spassionato da investitore, fate attenzione a chi gli mettete a fianco questi ragazzi, nel senso che immagino anche Fausta abbia il suo quaderno di esperienze passate, ma Blasonato Università Milanese mi presenta un'opportunità nell'Elf che era anche abbastanza interessante, la discussione si blocca con i ragazzi su due temi, uno per cortesia, vedi questo mentore tra l'altro che si occupa appunto di una roba di innovation, ripeto, in Blasonata Università Milanese, mentor di Copenaghen che dice mi raccomando però non toccate il tema del brand perché non vogliono cambiare il nome della società, ma questa richiesta non mi è mai stata fatta, dici vabbè, ok, c'è stata già grossa discussione tra i soci. E la seconda cosa è che questo mentore gli ha fatto, secondo me, veramente un pessimo servizio in tema di valutazione, perché ha ragione Fausta ci si va a scannare lì, ma quando tu hai un'idea, per quanto buona che sia, ma non è provata, non c'hai un numero, non puoi venire a chiedere 4 milioni sulla base del nulla, perché questo è quello che capita, cioè, non solo la tua esperienza, la nostra esperienza un paio di anni fa un milione e mezzo per un'idea era, da lì si partiva, adesso, pian piano che passa il tempo, questa cosa si va avanti, siamo arrivati ai 4-5. Su questo penso che forse Mauro ne avrà visto anche qualcuno, formazione 4.0, commenti, consigli anche poi da dare. Su questo è vero, io sto vedendo dei premani, dei prezzi che sono fantascientifici, secondo il mio punto di vista dobbiamo partire e qua sono la prima volta oggi d'accordo con Adriano. Allora, dobbiamo partire dal team, però i soldi saranno sopra, noi stiamo ragionando sotto, su come arrivano i soldi ad aiutare, sempre della mia opinione, il team è chiaro che è molto importante, all'estero sappiamo benissimo che a volte comprano i team, non comprano la società. Giustamente. Qua vedo, ma ho visto anche a volte delle presentazioni sotto, intanto c'è una regola base, se non la so spiegare bene non l'ho capita, principalmente io in alcuni casi non le ho capite queste start-up, in altri casi vedo prodotti software, non start-up. la start-up è una PMI, è un'azienda che si basa su un concetto innovativo e deve avere una struttura manageriale già dall'inizio che ha un equilibrio, ecco perché condivido anche il fatto dell'età. io qua lancio un altro sasso, le generazioni oggi non si parlano più, a me capita spessissimo di andare su eventi under 30, mi guardo e dice questo nonno che è venuto a fare qui, tra i 30 e i 50 siamo fra noi, over 70 sono quelli della lobby, delle delle lobby. pessimismo, secondo me in un'azienda le figure sono molto importanti, l'esperienza deve essere orizzontale e il valore vero è qua, anche. Grazie Mara, abbiamo 5 minuti, vorrei fare intervento a Pausa e poi abbiamo un intervento dal pubblico se non sbaglio. Volevo aggiungere un pezzettino che secondo me manca in tutto questo discorso, che fa sempre la parte della cultura che non è ancora venuto fuori, ma secondo me è importuno che venga fuori, adesso non so quanti siano adesso le startup innovative, abbiamo raggiunto 10.000, non lo so perché nascono come i funghi, eccetera, eccetera. Allora, in Italia è venduto come un plus il fatto che abbiamo l'80-85% di sopravvivenza delle startup innovative, cosa che invece è una cattivissima cosa, nel senso che la famosa regola fallire in fretta, probabilmente quelli che hanno 45 anni sono bravi perché sono falliti 10 volte. in Italia non riusciamo ad arrivare a quel punto lì, ed again è un fatto di una cultura che va creata, perché tutto sommato non c'è. Per quanto riguarda le competenze poi sono d'accordissimo, infatti poi ne parlavamo oggi a pranzo, c'è anche il fatto che tante volte, soprattutto su prodotti soft, piuttosto che anche healthcare, qualsiasi cosa che abbia dietro tanta ricerca e sviluppo, eccetera, tante volte l'imprenditore poi non è quello in grado di portare avanti l'azienda a un certo livello e prima se ne rende conto meglio è. Grazie Fausta, prendiamo una domanda, forse una considerazione, non so se voleva intervenire, vedevo, prego. Carolina Business Angel è socia di un'associazione di Business Angel, conosco Fausta, conosco Mauro da poco e volevo fare le mie considerazioni. Soldi ci sono, noi sono nove mesi che non riusciamo a portare ai nostri soci un numero sufficiente di deal di qualità, secondo me ci sono due temi, ora va di moda la start up, sono tutti start up, ma io tanti di questi ragazzi che vedono possono essere dei buoni imprenditori nel loro territorio con un'aziendina di 10-15 dipendenti, viverci bene, dare lavoro, sono business che non faranno mai un exit, ma sono business che staranno sul mercato e come, scusate, i nostri genitori hanno fatto gli imprenditori per anni, ci hanno visto, ci hanno fatto crescere, questi ragazzi possono fargli imprenditori. Ora sembra che o fai la start up, raccogli i soldi e fai la mega exit, non esiste un'altra alternativa, quindi l'invito che io faccio è fate anche solo gli imprenditori, cioè perché va benissimo e forse va anche meglio. Seconda cosa, le persone che noi incontriamo e guardiamo al team o sono persone già mature che hanno fatto un'esperienza o sono giovani che hanno avuto la fortuna o la lungimiranza di affiancarsi da subito qualcuno un po' più senior. Perché? Perché il percorso è lungo, perché le difficoltà sono tante e perché per quanto tu sia una persona brillante con grandi idee non l'hai fatto prima. Sul primo punto pensa che questa idea sia passata perché poi sentendo anche personalità del governo o comunque di maggioranza che si occupano di questi temi dicono invece il contrario, cioè l'obiettivo è fare Google, Facebook, cioè fare la grandissima start up e non l'impresa di 10 dipendenti. Ragazzi se uno guarda le statistiche, ma se uno guarda le statistiche anche senza guardare l'Italia che come dire no è più complicato, ma anche negli altri paesi non è che ci siano exit ogni due settimane. Quindi il vero tema poi è cosa si cavalca e cosa si vuole spingere nei diversi momenti, anche nei diversi momenti politici. Credo che il vero tema prioritario almeno per utilizzare i soldi privati e migliorare la qualità e l'esperienza dei ragazzi che vengono a proporci delle idee. Perché ripeto, noi gli ultimi tre, noi facciamo un incontro ogni tre mesi, portiamo quattro start up, ci siamo trovati mediamente a portarne tre, ma nessuna delle tre voglio dire ci aveva proprio convinto nel comitato di screening, ma non puoi non portare ai soci qualche proposta, ma alla fine non raccolgono, quindi hai fatto perdere tempo a tutti. Grazie, grazie molto. Un ultimo, forse un velocissimo intervento, se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti vi ringrazio, ringrazio allora i nostri relatori e buon proseguimento qui a Iros Maratea. Grazie a tutti.